Presidente De Rio, se può fare un bilancio di questi 5 anni di lavoro alla provincia di Nuoro? Un bilancio in 20 secondi è impossibile, però riassumendo in un paio di parole chiave, la provincia di Nuoro è stata salvata dalla bancarotta perché ha perso il 42% delle entrate insieme al territorio che ha dovuto cedere alle altre province, quando sono state fatte le 8 province, e dopodiché ha ripreso molta elasticità nel suo bilancio e ha potuto lavorare sul territorio su diverse direttrici. Una è la scuola, una sono le infrastrutture e l'altra sullo sviluppo economico, sono i tre punti principali del programma e anche del bilancio. Perfetto, quindi il sindaco di Olo Lai, praticamente che sarebbe Fisio Ardao, la sfida ha le primarie, lei raccoglie questa sfida? Io non vivo la politica come una gara sportiva, né come una gara in generale. Secondo me il partito e la coalizione deve scegliere le persone adeguate al ruolo quando si manifesta l'occasione di un'elezione o di un confronto. Io sono disponibile a seguire le direttive del mio partito, le decisioni del mio partito, devono essere assunte secondo delle regole, non sono disponibile invece nel caso in cui non ci sia una mia candidatura a fare nuove liste, nuovi partiti. Ho una impostazione, se vogliamo, tradizionale, anche antica e credo che si debba seguire l'orientamento del partito. Grazie a tutti.